Ciao da Gilberto di CorsiPLC.com In questo breve video vedrai una panoramica delle potenzialità di uno SCADA quello che può realizzare graficamente e quali sono gli effetti quando viene lanciato in runtime come riferimento ho preso il Citex SCADA ma tieni presente che queste caratteristiche sono presenti in tutti gli SCADA che attualmente sono presenti nel mercato quella che stai vedendo adesso è la prima pagina dell'applicazione di esempio che Citex mette a disposizione quando si installa il software e lo divide in 4 menu, example, alarms, trend e tools adesso velocemente ti faccio vedere la parte più importante che è quella relativa alla parte grafica allora Food and Beverage, clic e qua c'è un'applicazione dove puoi vedere le Tanks, degli agitatori e una linea di imbottigliamento ha una sua logica, una sua sequenza però quello che voglio farti vedere è la possibilità per esempio di andare ad agire sul simbolo e definire per esempio la modalità di funzionamento se manuale o automatica ovviamente quando sono in automatico non posso assolutamente andare a fare movimentazioni manuali se debbo farlo debbo ripassare manuale e per esempio mettere in stop l'agitatore come lo metto in stop l'agitatore viene colorato di grigio se lo rimetto in start oltre alla movimentazione dinamica appare anche il verde che mi avverte che questo agitatore è in marcia quindi come vedi io graficamente ho a impatto tutto l'impianto ma anche a livello dinamico posso capire il funzionamento dei vari oggetti dei vari attuatori, dei sensori che sono distribuiti in campo passiamo alla seconda pagina, steel mill questo è l'esempio di una linea per la sbobbinatura di bobine di acciaio in questo caso possiamo tenere sotto controllo anche alcune variabili che sono state inserite ecco è partito e possiamo vedere tutti i vari cilindri che sono oggetto della lavorazione passiamo avanti, andiamo a vedere il loops qui abbiamo 5 loops che lavorano con un PID inserito dove possiamo per esempio andare a modificare sia il guadagno che l'integrale che la funzione derivativa ok? quindi io spostando per esempio in alto il mio set point avrò, eccolo qua, la lavorazione per arrivare al nuovo set point e questo tenendo conto ovviamente dei parametri che ho inserito sia del guadagno che dell'integrale che dell'azione derivativa poi abbiamo una pagina riassuntiva di vari simboli che possiamo utilizzare potrei per esempio fare dei test e vediamo cosa succede il digital 1 mi fa vedere lo switch che va on off rimettiamolo in test così ci fa vedere le varie colorazioni e anche i vari movimenti che sono possibili a effettuare agitatore sia in verticale che in orizzontale varie colorazioni, pompe, valvole, eccetera, eccetera ovviamente non sono solo quelli simboli, se ne sono molti di più poi abbiamo la possibilità di lavorare con degli oggetti che hanno la proprietà di cambiare lo stato al livello non di 0,1 come se fossero dei bit digitali ma tramite valori come dire analogici vediamo un po', io lavoro su questa barra in verticale e vedi che ho l'effetto di spostare gli oggetti in modo verticale se mi porto qua su, lavorando con quest'altra barra ho la possibilità di ridurre e aumentare gli stessi oggetti in modo dinamico con quest'altro pulsante ho la possibilità di lavorare a livello verticale come se volessi riempire o svuotare dei tanks ecco, vedi da 0 al massimo valore che posso definire per ognuno degli oggetti ho la possibilità di lavorare con degli ActiveX per esempio in questo caso sono dei cruscotti analogici se lo metto in automatico mi farà vedere le varie funzionalità di questi cruscotti metrici diciamo così ok? ne abbiamo diverse a disposizione per poter realizzare le nostre applicazioni poi, importante, abbiamo ancora a livello di gruppo ecco, c'è questa applicazione come vedi un'applicazione abbastanza rumorosa poi abbiamo la possibilità di lavorare con alcuni oggetti come input di ingresso per quanto riguarda l'operatore quindi possiamo per esempio abilitare in un off valvole, motori, pompe in varie modalità abbiamo addirittura la possibilità a livello spaziale di vedere le coordinate di un rettangolo o di una superficie che ci interessa abbiamo la possibilità di lavorare con dei meter a livello circolare o in modo verticale per quanto riguarda delle barre abbiamo in ultimo la possibilità di realizzare dei codici sia in pseudo VBA quindi in basic adattato a SciTech oppure con un linguaggio che SciTech ci mette a disposizione che si chiama SciCode e qua per esempio io posso dire la temperatura che voglio raggiungere deve essere 50 e poi gli dico ok inserisci questa temperatura come controllo poi posso per esempio cambiare il titolo posso incrementare la temperatura in modo manuale per poi ovviamente impostarla posso cambiare il background del mio oggetto e questo lo posso fare con delle routine che se poi lo andassi a vedere in offline sarebbero proprio dei veri e propri script che vengono realizzati a livello di codice lasciando da parte adesso gli allarmi ti faccio vedere i trend abbiamo molte possibilità di lavorare con i trend sia a livello statistico con controlli molto complessi sia a livello di singolo trend inserendo una o più variabili di tenere sotto controllo nel tempo abbiamo poi diverse possibilità ad accesso gerarchico quindi a livello manager a livello di operatore o di engineering quindi con vari login e logout la possibilità eventualmente di impostare linguaggi diversi da magari switchare nel momento in cui dopo l'installazione dobbiamo installare la macchina o l'impianto dove risiede lo SCADA in una nazione diversa andremo anche a scegliere un linguaggio adeguato abbiamo la possibilità di inserire una pagina di utility per noi progettisti ma anche per gli operatori che devono magari impostare e utilizzare e modificare nuovi utenti come vedi con gli SCADA possiamo quindi realizzare tutto quello che occorre per rappresentare graficamente l'impianto o la macchina oltre ovviamente a gestirne al meglio la produzione sono strumenti molto potenti e ormai irrinunciabili nella moderna automazione e nella building automation un saluto e ciao da Gilberto grazie a tutti Grazie a tutti.